Alberico di Cecco torna domenica prossima a Pescara alla Maratona D'Annunziana, quindicesima edizione. Tante le novità per questo appuntamento. Sì, devo dire una maratona che è di per sé sempre più un brand, perché poi intorno all'evento di 42 km e 195 metri riusciamo e si aggregano tante belle realtà, anche sociali, del nostro territorio. Parlo soprattutto per quanto riguarda la passeggiata che quest'anno intitoliamo a Duilio-Fornarola, che l'anno scorso proprio nella Maratona di Pescara ci ha abbandonati per sempre. Faremo tante belle iniziative insieme proprio alla famiglia e alle associazioni vicine a Duilio, non ultima, forse la più bella, quella che resterà per sempre a noi pescaresi. Lasceremo nel punto dove Duilio ci ha lasciato una targa al ricordo di quel giorno. Dopodiché si parte, si sorride, si soffre. E si riesce fondamentalmente a cercare di fare ancora meglio degli altri anni. Ci mettiamo a disposizione e organizzeremo, come già nel passato, il campionato regionale WISP, che vedrà appunto gareggiare gli atleti WISP. I migliori d'Abruzzo ci sono tutti e speriamo possano fare una bella gara. Noi staremo a vedere questo bel evento tecnico. La quindicesima edizione, un evento che oramai è diventato un evento importante non solamente per la città di Pescara, ma io penso per tutta la regione, perché riuscire ad arrivare a questi numeri, come oramai gli organizzatori mi dicono, che pensiamo e speriamo di raggiungere le 2000 presenze, vuol dire essere diventate una delle maratone più importanti d'Italia. Grazie.